Nuovi sviluppi nella vicenda Casa del Buglia KME a Fornaci di Barga. Il 13 novembre scorso a Firenze c'è stata l'udienza al TAR per discutere del ricorso presentato dall'azienda contro l'ordinanza del Comune, era il luglio 2019, che intimava alla società la completa e fedele ricostruzione dell'ex Casa del Buglia dei fabbricati limitrofi. Il Comune aveva disposto in particolare che se i lavori non fossero stati eseguiti nei 90 giorni di tempo indicati, tutta l'area oggetto del contendere sarebbe divenuta patrimonio della stessa amministrazione. KME nel suo ricorso contro il Comune aveva richiesto al TAR di sospendere in via cautelare l'efficacia dell'ordinanza e nel merito di annullarla perché illegittima. Alla fine si è arrivati per il momento ad un nulla di fatto, in sostanza il Comune ha deciso di sospendere gli effetti dell'ordinanza, ossia l'acquisizione dell'area dove era Casa Buglia e gli altri fabbricati, in attesa che il TAR si pronunci nel merito, ossia sulla legittimità del provvedimento. Si rimanda così insomma all'attuazione dell'ordinanza solo dopo che il Tribunale avrà deciso in tal senso. Entrambi le parti in causa hanno poi richiesto che il merito dell'ordinanza e della sua legittimità vada al più presto approfondito e che in tal senso ci sia il prima possibile un pronunciamento del Tribunale.